bella ragazzi benvenuti sullele king tv e con quest'altro ce l'ho mi manca della raccolta calciatori 20 21 allora ragazzi il genoa è sicuramente la squadra di cui ci mancano più figurine però adesso guarda guardando le figurine di questa di questo ce l'ho mi manca non c'è il genoa quindi lo spezia per esempio ce ne sono due anche lo spezia me ne mancano quattro se non sbaglio quindi il genoa era due figurine mancanti potrebbe essere superato dal dallo spezia in questo in questo ce l'ho mi manca vediamo ragazzi quale sarà la prima squadra che completerò su questa raccolta quindi per prima cosa ragazzi lasciate subito immediatamente un bel like non costa niente iscrivetevi al canale e attivate la campanella e commentate sotto nei commenti secondo voi quale sarà la squadra che terminerò per prima di questa raccolta qui di questa raccolta quindi 2020 2021 abbiamo la prima figurina che è la copertina 80 81 2010 2011 che la leviamo subito perché ce l'abbiamo abbiamo la numero 34 dove sta 34 mi sono persa 34 a dove sta eccola ce l'abbiamo 90 91 e copertina attuale 2020 2021 quindi tutti i doppioni andiamo all'atalanta come vedete l'atalanta ne mancano 7 qui 7 ne mancano abbiamo la numero 60 che è la formazione che ci manca quindi dell'atalanta ci mancano 7 figurine per poter completare la squadra poi andiamo avanti andiamo al benevento dove abbiamo la figurina numero 80 che è sau che andiamo attaccare ce ne mancano 4 da questa parte del benevento adesso vediamo se anche nella pagina dietro ci manca qualcosa oppure no alla 4 e 5 5 5 figurine per completare benevento andiamo al bologna dove qui ce ne mancano addirittura 6 comunque troviamo la 102 quindi ce ne mancano soltanto 5 così con questa figurina andiamo attaccare che è soriano e poi abbiamo anche la 103 che invece abbiamo ecco qua che è vignano che è doppione quindi ce ne mancano 5 del bologna 5 totali ce ne mancano andiamo al cagliari del cagliari ce ne mancano 3 6 da questa parte ma troviamo cranio quindi ce ne mancano solo 5 a meno nella prima parte del della formazione adesso vediamo perché abbiamo trovato anche no non abbiamo trovato niente perché quest'altra è il crotone quindi ce ne mancano ci manca anche la maglietta quindi ci mancano 6 figurine per completarla andiamo al crotone che come vedete ce ne mancano 6 da questa parte però abbiamo trovato la formazione dall'altra parte che ce l'abbiamo doppia quindi il crotone ce ne mancano 6 figurine per completarla andiamo alla fiorentina anche qui ce ne mancano addirittura 7 però abbiamo la 173 che è barreca che ci manca eccolo qua barreca la 187 che è vlaovic che ce l'abbiamo quindi la fiorentina ce ne mancano 7 7 figurine per completare poi del genoa ce ne mancano due soltanto e per adesso restiamo a due dell'ella severona ce ne mancano 2 4 7 9 9 figurine ragazzi per completare l'ella severona dell'inter ce ne mancano soltanto 4 si confermo soltanto 4 della juventus trovando la 287 che bernardeschi ce ne mancano 7 8 9 mancano tante da juventus la lazio ragazzi abbiamo trovato la 302 vavro che doppione 307 che ha pro questa ci manca e la 312 che pereira e con la lazio ci portiamo avanti io spero che non sia questa la prima squadra e crediamo nella raccolta ragazzi speriamo di no ce ne mancano 4 qui più 5 della formazione del milano abbiamo però nessuna figurina ce ne mancano 7 per completarla del napoli ce ne mancano 6 6 per 6 e 7 con la maglia perché rino cattuso l'abbiamo trovato poi del parma ce ne mancano 3 4 e 5 della roma ce ne mancano 6 7 8 della della samp ce ne mancano 5 del sassuolo troviamo la 468 che ce l'abbiamo ce ne mancano 2 3 4 dello spezzi ragazzi qui ci potrebbe essere qualche novità perché qua come vedete ce ne mancano 3 da questa parte più no tre figurine ci mancano ragazzi il genoa ce ne mancano 2 quindi lo spezzi adesso qui abbiamo parecchie figure attaccare 479 erlich ce la ci mancano quindi ragazzi questo significa che ce ne mancano 2 anche dello spezia però se non sbaglio ho 3 figurine da attaccare adesso vediamo se ci mancano no erano 2 483 invece ce l'abbiamo quindi ragazzi ce ne mancano quindi ragazzi ce ne mancano 2 come il genoa quindi lo spezia raggiunge il genoa in questa fantomatica classifica delle figurine mancanti del canale lelking tv allora intanto ce ne mancano 6 del torino ce ne mancano 4 dell'utinese quindi spezia e genoa sono quelle che ce ne mancano di meno diamo alla figurina 620 della serie b vediamo se ci manca 620 della serie b che il cosenza ci manca corsi tiritiello e conee poi abbiamo la 659 che è lo stemma del del monza che ci manca 661 ce l'abbiamo poi abbiamo il pescara col 668 che ci manca con bellanova drudi e jaruzischi poi abbiamo la figurina numero 691 che ce l'abbiamo che qual è questa qui poi abbiamo la 692 che ci manca della reggiana da questo tutto ci manca solo lo stemma e completare anche la reggiana della serie b 718 del venezia ce l'abbiamo ragazzi quindi ragazzi per questo ce lo mi manca è tutto non siamo ancora riusciti a completare nessuna squadra di serie A io vi saluto ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti 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 ciao a tutti